Segnati questi 5 centrocampisti da bonus che tanta gente ignorerà all'asta del fantacalcio e se tu li porterai nel tuo centrocampo potrebbero fare le tue fortune spendendo pochi crediti come ogni anno è normale che all'asta del fantacalcio ci siano alcuni nomi che vengono ignorati o comunque vengono rialzati poco ma possono portare dei bonus io oggi ho inquadrato 5 centrocampisti più una scommessa che ti dirò se vedrai il video fino alla fine che potrebbero fare la fortuna del tuo centrocampo ora non sto parlando di primi e secondi slot sto parlando di quei quarti quinti slot con speranza di diventare qualcosa di più se stai cercando un'applicazione che ti aiuti a fare al meglio la tua asta del fantacalcio ti consiglio Fanta Algoritmo Fanta Algoritmo è un'app fantastica perché durante l'asta ti dice proprio chi chiamare, quando chiamarlo e quanto pagarlo in più ha anche una cosa molto carina perché finita l'asta ti dice chi ha composto la squadra migliore e chi secondo lui andrà a vincere il fantacalcio poi durante l'anno ti aiuta perché ti dà gli indici di schierabilità della tua formazione di fatto ti fa la formazione secondo lui trovi Fanta Algoritmo al link qui sotto in descrizione e se utilizzerai il codice sconto Fanta Gol 20 risparmierai il 20% primo nome Nicola Moro Nicola con la K non ti sbagliare è un centrocampista del Bologna ora nella scorsa stagione ha fatto 26 presenze un gol 5 assist conta anche che alcune volte è entrato dalla panchina quindi non erano tutte a titolare queste partite ora il Bologna sembra che stia per cedere uno tra Dominguez e Skouten più Dominguez perché comunque ha il contratto in scadenza questo libererebbe un posto da titolare nel Bologna e se così fosse Moro potrebbe occupare questo posto anche perché lui era stato appena riscattato dalla società emiliana e comunque piace molto a Motta che di fatto l'ha lanciato se guardiamo le stagioni passate intanto nel 22-23 quindi la stagione appena conclusa aveva cominciato a giocare con la Dinamo Mosca dove ha fatto 6 presenze con 2 assist poi è passato al Bologna stagione 21-22 sempre là 28 presenze 1 gol 1 assist stagione 20-21 3 gol 1 assist in 24 presenze diciamo che ha una media bonus su presenze abbastanza elevata ha anche fatto 5 stagioni nella Dinamo Zagabria stagione 19-20 28 presenze 2 gol stagione 18-19 19 presenze 3 gol stagione 17-18 24 presenze 4 gol nelle due stagioni prima invece era molto giovane in 16 presenze totali 1 gol questo proprio per farti capire il rapporto partite-gol ah di quelle stagioni alla Dinamo Zagabria non ho gli assist cosa mi aspetto da lui? secondo me veramente sarà titolare alla fine e comunque sia da titolare potrebbe darci più o meno 2 gol e 6 o 7 assist niente male lo paghi tra l'1 e il 2% del budget probabilmente andrai sull'1,5% del budget ora se dovesse partire uno tra Dominguez e Scouten per me sarebbe un quarto slot pieno per il tuo centrocampo tendente al terzo ora come ora lo devi considerare più o meno un quinto slot sperando che possa diventare qualcosa di più secondo nome per il tuo centrocampo Radonic del Torino ha di bello Radonic intanto che gioca sulle tre quarti quindi gioca più avanzato più a contatto con l'area di rigore nella scorsa stagione ha fatto 28 presenze 2 gol 2 assist va detto che lui spesso subentrava non era quasi mai titolare adesso Mirancuk è tornato all'Atalanta Vlasic deve avere qualche problema perché dopo metà del campionato è andato giù in calare all'inizio sembrava quasi un top e quindi potrebbe essere titolare stiamo sempre parlando della squadra di Juric quindi non una squadra che faccia un botto di gol analizziamo le statistiche passate di Radonic allora stagione 21-22 l'ha fatta metà tra Benfica e Olympique Marsiglia nel Benfica ha fatto 6 presenze nell'Olympique 1 quindi stagione pessima stagione 20-21 12 presenze 2 gol 1 assist nell'Olympique quindi sempre Ligue 1 francese e quella stagione l'aveva fatta a metà perché aveva giocato anche nell'ERTA quindi Bundesliga 12 partite 1 gol 2 assist nell'Olympique l'unica stagione completa che ha fatto è stata la 19-20 dove ha fatto in 21 presenze 5 gol 1 assist in 21 presenze cioè se le avesse giocate tutte avrebbe sfiorato i 10 gol poi c'è la stagione 18-19 dove ha fatto 17 presenze nell'Olympique con 0 bonus la stagione prima nella Superliga Serba aveva fatto 5 gol in 28 presenze cosa mi aspetto da Radonici? io mi aspetto titolarità mi aspetto sui 3-4 gol perché comunque i campionati dove ha bollato non erano al livello della nostra Serie A e mi aspetto tra i 3 e i 4 assist non lo paghi tanto perché secondo me sul 2% del budget te lo porti a casa parlo di un Fanta 10 sia come slot che come budget fai il giusto rapporto perché se giochi in un Fanta con meno partecipanti lo slot diventa più basso e i crediti con cui pagarlo diventano meno se invece stai facendo un Fanta con più partecipanti tipo 12 si potrebbe pagare più o meno uguale però lo slot potrebbe salire e comunque per me è un quarto slot pieno terzo nome Michele Fantagol Fantacalcio seguimi perché sto cercando di farti fare la migliore asta possibile al Fantacalcio ti sto dando tanti nomi che sono sotto traccia perché sono questi quelli più importanti secondo me all'asta del Fantacalcio sono tutti buoni ad arrivare all'asta e conoscere solo top e semi top ma portati a casa le scommesse poi ne parliamo per cui iscriviti al mio canale per non perderti nessuno dei prossimi video e i miei consigli sul Fantacalcio terzo nome Lazovic lo so questo non è tanto sotto traccia ok Lazovic ha fatto una stagione strana l'anno scorso perché è partito Maluccio e poi nella seconda parte della stagione ha portato diversi bonus cioè avesse giocato sempre con quella costanza e sarebbe potuto essere un nuovo top al Fantacalcio o top basso stagione scorsa appena finita 4 gol 6 assist in 31 presente lui è praticamente sempre titolare anche se all'inizio invece era messo un po' in discussione adesso deve essere titolare stagione 21-22 un gol 7 assist stagione 20-21 3 gol 6 assist stagione 19-20 3 gol 7 assist diciamo che è uno abbastanza regolare nel rendimento quest'anno secondo me potrebbe fare qualcosa di più comunque io da lui mi aspetto più o meno 4 gol potrebbero essere anche 5 quest'anno e sempre i soliti 6 o 7 assist lo considero un terzo slot pieno per il centrocampo e si pagherà tra il 3 e il 4% del budget si paga un po' perché comunque ormai sono 4 stagioni di fila che performa quindi la gente inizia a considerarlo tra l'altro se andiamo anche a vedere le statistiche al Genoa dove ha giocato 4 anni in A stagione 18-19 3 gol 4 assist stagione 17-18 2 assist ma aveva fatto solo 21 presenze stagione prima 2 gol 4 assist poi la stagione 15-16 la giocata a metà facendo 2 assist se la butto lì così Stella Rossa Superliga Serba stagione 14-15 10 gol lì mancano gli assist ma saranno stati tanti anche lì il quarto nome in realtà lo punta diversa gente l'anno scorso era più sotto traccia però comunque ti ho detto che ti darò un nome bonus se guarderai il video fino alla fine Elmas del Napoli stagione conclusa con 6 gol 3 assist stagione 21-22 3 gol 5 assist stagione 20-21 2 gol 1 assist lì aveva fatto solo 33 presenze stagione 19-20 in 26 presenze 1 gol 1 assist importante anche la stagione 18-19 in Turchia al Fernerva c'è 4 gol in 29 presenze ora purtroppo non c'è più Spalletti ti dico purtroppo perché Spalletti con lui ci sapeva fare infatti aveva cominciato a farlo giocare con regolarità a sinistra ma spesso te lo faceva giocare anche a destra sporadicamente si è visto anche nella linea dei centrali di centrocampo però non è tanto cosa sua quella sta meglio o a sinistra o a destra ora ha cambiato l'allenatore ok però Rudy Garcia potrebbe trovarsi per le mani il problema Lozano c'è un po' di maretta su Lozano ok e se Lozano andasse via Elmas potrebbe prendere la titolarità a destra però c'è un però in questo caso ti suggerirei di fare la coppia con Politano perché comunque dovrebbero essere listati tutti e due centrocampisti e si andrebbero entrambi a giocare quella posizione con Elmas che ha il vantaggio che ti giocherà anche a sinistra tra l'altro Elmas è puramente un fuori ruolo perché comunque ti gioca negli esterni d'attacco del Napoli cosa mi aspetto da Elmas quanto pagarlo mi aspetto più o meno 30 presenze anche se non tutte da titolari mi aspetto più o meno 5 gol sui 3-4 assist quest'anno però Elmas si paga di più si può pagare fino al 4% del budget lo considero un quarto-quinto slot per il tuo centrocampo purtroppo c'è il dubbio titolarità se vedi che parte Lozano diventa un terzo-quarto slot chiaro se parte Lozano e non comprano un altro per fargli fare il titolare lì o anche se dovesse partire a Quaraschelia perché comunque offerte alte dall'estero ci sono le richieste ci sono prima di darti il quinto nome ti chiedo se il video ti sta piacendo fammelo sapere con un like quinto nome Castanos della Salernitana stagione conclusa con 28 presenze 2 gol 1 assist la stagione prima 27 presenze 1 gol 1 assist lui è un trequartista e secondo me si è conquistato la titolarità quindi io mi aspetto titolarità sui 4-5 gol e sui 3-4 assist io lo so è che mi sto aspettando molto ti sto dando cifre importanti su di lui considera anche che lo paghi pochissimo tra l'1 e l'1,5% del budget perché su Castanos non ci punta tanta gente secondo me sarà un quarto-quinto slot dico quarto-quinto nel senso tu adesso lo devi vedere come un quarto-quinto slot poi dopo devi essere bravo tu a metterlo in campo nelle partite giuste chiaro che se tu ti senti dire farà 4-5 gol 3-4 assist che quinto slot può essere il fatto è che la mia è una previsione tu devi acquistarlo pensando che sia un quarto-quinto slot poi si vedrà se sono rose e fioriranno se sei arrivato fin qua ti meriti un nome bonus per il tuo centrocampo sto parlando di Maldini dell'Empoli anche lui è un trequartista quindi è offensivo a me piacciono i centrompisti offensivi appena concluso una stagione allo Spezia dove ha fatto due gol in 18 presenze nel Milan complessivamente in tre stagioni ha fatto 15 presenze con un gol questa può essere la sua annata oggi io mi aspetto titolarità da lui per me l'Empoli ci punterà molto su di lui comunque stiamo un po' bassi diciamo che ci aspettiamo tra le 25 e le 30 presenze ma credo che sarà titolare sui 2-3 gol e 2-3 assist lo paghi tra l'1 e l'1,5% del budget lo devi considerare però un quinto-sesto slot per il tuo centrocampo perché è molto giovane e non ha ancora fatto una stagione da titolare ora fammi sapere tra questi centrocampisti chi è quello che ti stuzzica di più e consigliami tu degli altri nomi per il centrocampo sotto traccia ora qua ti si apriranno dei video potresti trovare qualcosa di interessante e comunque sia ti ricordo che il 10 agosto c'è l'asta del fantacalcio YouTube Italia in live qui sul mio canale dalle ore 18 non mancare perché sarà una vera asta molto utile per te che dovrai ancora fare la tua asta perché vedrai a quanto andranno via i giocatori le strategie dei vari allenatori e in più tutto ricavato andrà in beneficenza l'associazione Insuperabili che fa giocare a calcio ragazzi con disabilità differenti per cui non mancare anche solo stando lì a guardare la live contribuirai a donare qualcosa agli insuperabili ciao buona asta del fanta a tutti